Tessuto solido, linea alba ricostruita, siamo a distanza di un anno, c'è una muscolatura invidiabile e solida, ben rappresentata, chiusa su una linea alba ricostruita interamente dall'oxifoide al pube, quindi non c'è più la voragine, il difetto di parete che c'era prima, ma c'è tessuto solido, ben allenato e lo dimostra anche la piattezza e la forma esterna dell'addome, che è molto bella.